Le immagini parlano da sole. Pensare che la grande borsa piena di abitini lasciata insieme ad altre di rifiuti su una delle panchine del cammino di Sant'Antonio potrebbe essere stato il regalo di qualche associazione umanitaria fa tristezza. Sull'argine di Ponte di Godardere, nel punto dove il Muson si getta nel Brenta, ecco un nuovo degrado dopo quello che da qualche settimana cittadini e sportivi vedono passando sul ponte o lungo gli argini del fiume. Un immondezzaio sull'acqua. È proprio un'indecenza. Mi dispiace vedere la città, il Brenta in queste condizioni qua. Speriamo bene. Esattamente, certo che non è un bel spettacolo. Se si allaga sarà un disastro. Il consorzio del Brenta dovrebbe anche occuparsi di queste cose perché ogni tanto va pulito il fiume, ogni tanto se no diventa un immondizzaio. Proprio appena adesso mi fa strano sinceramente, mi fa un effetto, mi lascia perplesso. Dell'intasamento da tronchi e rifiuti alla base dei piloni del ponte è stato informato il Comune che attraverso l'assessore ai lavori pubblici Michaelizzi avviserà il genio civile, responsabile della manutenzione dei corsi d'acqua. Grazie. 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 Grazie.